Avete lottato come dei leoni, grazie ragazzi, questo è il titolo delle Telegraph, il principale quotidiano olandese. Se ieri su Amsterdam c'era un sole caldo che riscaldava la città e gli animi dei tifosi, oggi la capitale olandese si è risveiata con un cielo grigio, che corrisponde all'animo che in questo momento i tifosi olandesi hanno dentro di loro. Siamo andati in giro per la città per cercare di capire e ascoltare cosa pensano di questa nuova sconfitta in una finale mondiale. Dopo tre tentativi ancora una volta l'Olanda non è in grado, non ha potuto cuscirsi sulla maglia la prima stella mondiale. Sì, è. È un po' difficile, sono fatta, c'era una notte orribile a città. Non sono sorrisposta, perché è il secondo migliore team del mondo e questo è uno dei grandi cose. Siamo ancora molto orgogliosi di essere secondi, è un buon risultato. Prima del tournament nessuno pensava di essere secondi. Per seguire la finale contro la Spagna e qui ad Amsterdam sono arrivati nel weekend oltre 1.700.000 tifosi. Tifosi che questa mattina hanno lasciato delusi e con molta velocità le loro camere. Come ci racconta Rude, proprietaria di un importante albergo qui di Amsterdam? Nonostante la delusione per la sconfitta in finale contro la Spagna, i tifosi anandesi comunque vogliono abbracciare e ringraziare la loro nazionale. Sì, è un buon risultato, grazie. Sì, siamo orgogliosi, siamo la seconda squadra del mondo, in un po' molto piccolo. E per una settimana siamo disappointi, ma credo che in futuro siamo tornati a questo periodo e siamo la seconda squadra del mondo. Credo che abbiamo fatto un buon risultato. Siamo arrivati in un buon modo, in un buon modo. Grazie. 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 Siamo molto orgogliosi del team perché sono il secondo best team del mondo. È molto buono. È solo un team migliore. Da Amsterdam per Sky Sport 24 Federico Lo Giudice. Grazie. 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 Grazie.